A Fondi la scuola della legalità, questa la sfida lanciata dal Partito Democratico ieri pomeriggio nell'ambito del convegno organizzato presso l'Auditorium San Domenico dal titolo Fare Rete contro le mafie. La battaglia contro le infiltrazioni della malavita organizzata che il Partito Democratico di Fondi sta portando avanti con grande impegno da due anni e mezzo a questa parte, ieri ha risvegliato la coscienza di quanti hanno partecipato all'incontro, al quale hanno preso parte anche gli onorevoli Walter Vertroni e Jean-Leonardo Ady, i senatori Achille Passoni e Raffaele Ranucci, ma soprattutto Cosmo Bianchini, segretario regionale del sindacato di polizia CGL e SILP, perché è proprio ai rappresentanti delle forze dell'ordine che l'evento è stato dedicato in considerazione del recente atto intimidatorio rivolto ad un ispettore di polizia in servizio presso il commissariato di Fondi. Non sottovalutare quello che succede da anni qui, non sottovalutare il fatto per me gravissimo che si sia arrivati ad un'intimidazione nei confronti di un esponente delle forze dell'ordine e prima ancora all'invio di proiettili al questore di Latina, al capo della mobile, non sottovalutare che ieri sono stati sequestrati ingenti patrimoni a persone operanti in questo territorio. La prima cosa da fare è non considerare tutto questo qualcosa nei confronti del quale alzare le spalle, perché quando c'è il rischio della penetrazione della Camorra, la Camorra quando entra fa male, fa male ad una comunità, fa male a una città. All'inizio sembra entrare in punta di piedi e poi comincia a sparare.